Settimo brano, Poker Reg. Poker Reg è un Dixieland composto da Fernando Francia, nato a Via Rigi, Asti, nel 1935, ed è uno dei brani del genere maggiormente proposti da gruppi musicali bandistici, oggi proposto nell'arraggiamento della fanfara. Con il termine Dixieland viene definito il particolare modo di suonare lo stile New Orleans Dix da parte dei bianchi. Gli strumenti sono in parte quelli delle bande o Merchant Band dell'epoca. La sezione Fiat è formata da uno o due trombe, un trombone e un trombone. La sezione ritmica comprende un basso tuba, una chitarra e una batteria. Ovviamente nello stile tipico della fanfara dei bersaglieri, l'armonia viene proposta dai flicorni baritoni, mentre la ritmica viene creata dal connubio bassi flicorni contralti. A voi, Poker Reg. La sezione Fiat è formata da uno o due trombe, un trombe, un trombe, un trombe, un trombe, un trombe, un trombe. La sezione Fiat è formata da uno o due trombe, un trombe, un trombe. La sezione Fiat è formata da uno o due trombe, un trombe. La sezione Fiat è formata da uno o due trombe, un trombe.